si è appena conclusa LCS team Palma vince la LCS per 3 a 1 grazie ad una tripletta di Mauro Patanè che ci ha raggiunto qui in sale interviste buonasera Mauro buonasera allora Mauro oggi evidentemente la fascia di capitano ti ha dato un'ulteriore carica in più ti ha messo già quel qualcosa in più già forse non c'era bisogno ma già forse la fascia ti ha responsabilizzata ancora di più ti ha spinto ancora di più ad essere in effetti il match winner di quest'oggi una tripletta con una vittoria che comunque non è mai stata messa in discussione sin dall'inizio ma sì è una partita difficile i ragazzi avversari Palma e team Palma era davvero una squadra molto ostica abbiamo sudato dico voglio fare complimenti ai ragazzi che veramente hanno dimostrato di essere una buona squadra sì risultato 3 a 1 però abbiamo abbiamo avuto molte difficoltà avete avuto molte difficoltà soprattutto nel secondo tempo nel primo tempo avete giocato con molta scioltezza senza alcun problema avete fatto girare molto bene palla si è visto addirittura un po' di di calcio champagne tra l'altro era tornato lo turco avete avuto due settimane di pausa quindi mi siete potuti riposare un po' meglio avete potuto togliere meglio i meccanismi si è vista a tratti l'LCS degli ultimi due anni poi forse nel secondo tempo c'è stato un po' di calo nell'attenzione sei d'accordo? Sì 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 giusto giusto la tua osservazione sì eravamo partiti molto bene abbiamo sbagliato anche da troppi gol abbiamo preso tre pali comunque complimenti al loro portiere veramente ha fatto una grande partita sì come dici tu abbiamo giocato bene se oggi c'è stata una una bella partita rispetto alle partite precedenti sicuramente molto meglio sul piano tecnico e tattico del gioco però devo ripetere che i ragazzi ci hanno ci hanno messo in serie difficoltà infine molti tra gli addetti ai lavori concordano nel dire che questa Bundesliga è il girone tra le leghe silver più più difficile più combatturo perché ci siete voi che avete avete l'LCS che ha vinto il campionato due anni fa la Bonnici campione dell'anno scorso e poi bontà e benessere che sta impressionando in maniera abbastanza abbastanza buona secondo te la lotta per la qualificazione alle lighe sarà ristretta a queste tre squadre oppure ci sarà spazio anche per squadre come il team Palma che nelle due partite che hanno giocato hanno venduto cara la pelle ma loro nonostante tutto i loro tre punti però possono rientrare anche perché c'è appunto c'è andate ritorno queste tre squadre che hai elencato tu la Bonnici noi e il team questo nuovo che ha sostituito al capriccio sì sono tutte e tre grandi squadre appunto ne passano tre nel nostro girone per questo è ancora più difficile però io credo che il team Palma si potrà inserire se continua a giocare in questa maniera sicuramente può dare del filo d'orciano tutte e tre le squadre perfetto ringraziamo Mauro Patanè ripetiamo vogliamo partire di questo incontro con questo è tutto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti